Salve Questo è struttura No, non è vero Questo è mostarda No, non è vero Questo è... Questo è Art Attack Ma io, Tobi Quindi mostarda è veramente soltanto tu che parli? Sì No, non è vero Sì, è vero Ma sono qui per parlarvi di un film che ho visto Fuga di scorreggia È il più grande film che mai sarebbe potuto arrivare sugli schermi No, non è vero È la più grande merda che io abbia mai visto in vita mia Non perché è un film di merda Ma perché è un film di merda I protagonisti sono Il primo youtuber che è diventato youtuber Frank Wilmush Il primo youtuber che è diventato famoso per essere una drag queen Wilm Frank Il primo youtuber che ha fatto l'inverso Prima vado a lavorare in tv Poi pensa Vado a lavorare in tv Paolo Matano Recensioni fa Dissi una cosa Molto Posante Secondo voi Cosa c'è di peggio di un brutto film? Un film brutto La trama, come ho detto, è abbastanza semplice Il ragazzo che vuole conquistare il ragazzo La ragazza Che vuole conquistare la ragazza Frank Frank Ma porca di una porca Nathan Tu sei Una puttana Ma te lo dico con il cuore Ma vaffa Quindi ragazzina Vai a vedere il film Passerai un'ora e quaranta Che non Passerai mai Una pérdata Providere il film Ciao Maria Ma man